Appuntamento con la vittoria da non fallire domani per il Gela. Al Vincenzo Presti la squadra biancazzurra nell'ambito della ventunesima giornata del torneo di eccellenza riceverà la visita del Paceco. Vincere è basta, imperativo categorico. Dopo il pari di domenica scorsa sul campo del Camarat non sono più emessi passi falsi perché il risultato in terra grigentina, da qualsiasi angolatura lo si vede, assomiglia ad una sconfitta contro una squadra che deve salvarsi. Il Gela si presentava all'appuntamento di domenica scorsa con i galloni di capolista e perciò avrebbe dovuto far sua la gara. Ed invece è arrivato solo un punto e per giunta ottenuto in rimonta. E la classifica ne ha risentito. I biancazzurri infatti hanno perso la vetta scivolando al secondo posto e sono stati raggiunti dal Dattilo Noir. In 90 minuti è accaduto di tutto con la capolista San Cataldese che ha ripreso il allargo portandosi a più due sul team allenato da Totò Brucculeri. San Cataldese 41 punti, Gela e Dattilo Noir 39 e Paceco 35. Sì, proprio il Paceco squadra che domani sarà di scena sul terreno di gioco di Contrada Giardinelli. Ecco perché vincere vale doppio. Intanto si consoliderebbe la seconda piazza in aggreditoria a meno che la capolista non vada incontro ad una sconfitta sul campo del Profavara. E, dato importante, si dicaccerebbe indietro lo stesso Paceco distanziandolo di sette lunghezze. Vincere e basta, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo. Sarà importante, come del resto lo è stato fino ad oggi, l'apporto del pubblico di casa. Bisogna sottolineare che i tifosi biancazzurri, anche domenica scorsa a Camarata, non hanno mai fatto mancare il loro incitamento a Nassi e compagni. Ci può stare una partita storta e ci riferiamo proprio all'ultima in ordine cronologico. L'importante è non ricaderci perché una squadra che punta alla promozione in Serie D non può permettersi certi passi falsi. Da domani nessun calo di tensione. Per lo scontro con il Paceco l'allenatore giolese potrà contare i sui rientri di Bonafini ed Esposito. Non ce l'ha fatta Alma. La gara di domani sarà diretta da Marco Cecchin di Borsano del Grappa, codivato da Salvatore Maccarrone di Acireale e da Antonino Junior Palla di Catania. Fischio d'inizio previsto per le 15.